Allora, non ci sono Murloc Best, secondo me si va di Galacron in queste situazioni Murloc Best elementali, zero token Eh, in genere Galacron è un buon eroe con questa situazione Allora, accolitino, mi piace Non ci bisogna di frizzare niente qua Nel prossimo turno facciamo HP e prendiamo un altro pezzo, possibilmente un altro accolitino o una mummia Dai ragazzi che dobbiamo toccare i 13k, prima del reset Una missione, capire che ce la possiamo fare Sono arrabbiato perché perdo le bet Io ho fatto primo, terzo e secondo Quindi se betti contro te la vai a cercare Che belle Belle belle, coppia di mummia Turno dopo si compra l'altra mummia e si fa HP sul bucaniere E le mummie intanto scalano Best start, secondo me Raga, quando esce la patch cosa comprende? Il 20 l'annunciano e il 25 esce Non si sa ancora cosa c'è dentro Però il reset è sicurato Quindi zereranno i punti E poi hanno detto che la patch sarà grossa Quindi potrebbe esserci anche la tribe nuova Non è detto che ci sia la tribe nuova Però hanno detto che è una tribe grossa È una... non tribe grossa, è una patch grossa Ecco, Canaglia è anche un pezzo intrigante Perché noi faremo tier up per HP sul 5-4 Se ci esce il vendetta di Battle Royale lo prendiamo subito Tra l'altro la mummia è molto forte anche per trovare vendetta Se la missiamo possiamo prendere Canaglia Ciao turnonie e come stanno andando le partite Superiamo tutti i daie Bella Lustusebi è arrivata adesso la sub Praticamente quando uno fa la sub Parte la sub di qualcuno prima Cioè anzi che far vedere L'alerte Della propria Fa vedere La sub di qualcuno prima Tipo adesso Duke ha scritto Ecco qua la magia È stata effettivamente una magia Non so se era esattamente la magia che ti aspettavi Però è apparso un alert Di qualcuno che ha fatto la sub prima Al posto tuo È una magia Infatti è ancora di livello superiore Ah io dalla patch mi aspetto un cambiamento Importante per Molti pezzi Qua era meglio se le stacce fossero spalmate Avremmo vinto Piuttosto che tutto su un pezzo Qui invece ci fa perdere 4 danni Adesso quando arriverà la prossima sub Voglio veramente vedere se Riappare di nuovo La sub vecchia di qualcun altro Matrona Wow Nazzo Rizziamo a canaglia Mi sa di sì Eh non è male canaglia O livelliamo Eh no è buona canaglia Meno di canaglia C'è suo accolito E i demoni 1-1 Carceriere Ce ne sono di meglio Però Si potrebbe frizzare Non lo so Ma si possono trovare altro accolito Non lo frizziamo Carceriere accolito È meglio di canaglia Oddio è meglio In comunque Anche canaglia non è buonissima In realtà noi Il prossimo turno Potremmo avere Eh questa è roba forte Due carte Se tutto va bene Due carte Giochiamo le due carte E livelliamo Probably Dai freeze Non è dubbio No Qua Ok Pareggio Mi ha preso la coppia Buona Ecco carceriere Nannaz Beh Beh Che si prende Questo Si fa doppio natrezim O si livella Probabilmente si livella qua Le carte mi escono da questo O sennò prendo canaglia Prendo 3-3 Però sono sempre indietro di un tier up No Al 3 possiamo prendere il tizio Che mangia i demoni Che figo Si potrebbe veramente livellare qua Doppia Tarek Non lo so se frizzerei Tarek Per me no Perché il prossimo turno Si potrebbe veramente Rilivellare di nuovo E giocare semplicemente i pezzi Che escono da matrone Ok Bruttrade orribile Che rischio Che non si attivi Wow Tornando solo delle gran coppie 6 danni Allora un pezzo HP su un pezzo a 3 Ci sta per provare a cercare L'altra 3-5 Ovviamente Che non esce La domanda è Vogliamo frizzare la tazza? Per me non si frizza la tazza Cioè Non ne vedo il motivo Abbiamo livellato Per me non si frizza Cerchiamo la tripla Di mozzo Di nitrezim Di mummia Eventualmente Livelleremo di nuovo Penso Quindi siccome c'è l'annuncio Della patch Il 20 Il 25 Esce la patch nuova Io pensavo di fare Prima della nuova patch I qualifier Domani Dopodomani E la prossima settimana Provare a fare un po' di ladder Che dite? Allora Abbiamo praticamente La stessa build Però io sono al 4 Dove il 3 Fortuna che abbiamo scelto questo Tripla di mozzo Tra l'altro Sì Tripla di mozzo Nuts No è un'altra carta Yes E vinciamo pure il fight Quindi si livella E si fa tripla di mozzo Figata Poi Argos su mummia Si continua a macinare carte Che si piglia qui? Omega? Per me è omega qua Abbiamo due mummie Un servitore in meno Una moneta d'oro in più Hai buone possibilità di vincere Allora da un lato Per la 4-5 Era meglio se mettevo taunt Alle mummie Dall'altro In realtà Per la visione di me Che è meglio fare così No Ho perso una carta Però vengo il fight Quindi Allora Sono talmente forte Che andrei quasi a 6 Wow un altro home Anche a me non piaceva Eccoti una moneta d'oro Per il disturbo The fuck Allora Che si piglia Sono quasi niente Quasi niente Mi verrebbe da dire Amalgadone Fa due adapt Tre Se vende accolito Modulo che serve Non ci sono bestie Questa ha già taunt Non serve a niente modulo Sarebbe quasi da non fare niente Però un mech lo vorrei prendere Oh ho sbagliato Ho venduto uno di troppo Porca miseria Ho fatto una caccata Non schifo questo Questa la diamo Ho sbanchiato Prendiamo meno carte Questa la tenere accolita Lascia stare Sto a Amalgadone Probabilmente Non cambia tanto eh Qua ha sfigato Tanto l'idea è che Vogliamo triplare Omega Cercare Baron E Kangol Qua Magadone Era figo Se potrebbe essere preso Veleno Ma ho venduto Oh Attenzione Ho perso Ho preso una carte Però è uscita la coppia Di Amalgadone Not bad Noi Noi Questa Oh Vabbè prendo sempre un altro Omega Dai qua A caso sto uomo A caso sto uomo Che figata 5 Omega basta Era turno 9 Una maga Don Dorato perfetto Ah questa è roba forte Altro maga Don What Cosa Ma in cos'è sta partita Non ci credo Non ci credo Quanto è forte Questa vendetta 3-5 ragazzi Mischia Non ha senso I servitori hanno davvero dato tutto Il 69 è uscito Cosa Cosa Ehi stai davvero creando una grande armata Ci vorrebbe un altro Argus ora Modulo Allora credo che sia arrivato il momento di far saltare Matrona Anche se ovviamente un altro turno si potrebbe anche tenere Tanto facciamo via Mumia Ecco si può fare un altro Maga Don perfetto Io non lo so A me sembra buono fare un altro Maga Don perfetto Triple Buster Bellissimo sta build E' veramente Fu riper Sembra forte Sembra forte sta build Hai la vittoria in pugno Sei in prima posizione Poverino 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 non è troppo Ma è neanche così debole per turno 10 Vai Gangor La nostra build non ha senso Non sono riuscita a prendere la carta Che sfiga Ho tenuto perché magari citava Argus Tante madre Sta partita è magica Oh Martin 4 Ottima sta notizia Cerco Argus Forse si sta a fare un 6 Per trovare la tripa sua Vabbè O comunque aspettare gli ultimi roll Vedi a bot Allora il punto è Cerchiamo la tripla di questo Kangor E Argus Per il resto possiamo anche non fare più niente Questa build è insane Modulo non è malvagio Per attaccarlo a un Omega Buster Si potrebbe prendere Modulo Lo attacchiamo a un Buster Dai frizziamo quel modulo Però io devo vendere fuori Per pregiocarlo Ti stanno puntando tutti Fa attenzione Che bello leggere i 100-100 Boom Allora qua ha vinto Milaos di poco Vedete ho preso modulo Ma non posso giocarlo Infatti perché L'ho deciso Se frizzarlo Perché lo posso giocare solo Se poi trovo un sostituto Per 4eaper Potrebbe essere Kangor Che potrebbe essere Qualunque cosa Un altro 4eaper Anche E se no non si gioca Vai Bene così Ci stiamo buoni Questa build è a FK Da 3 turni Triple Buster Due Magadoni perfetti Baron e un 4eaper Auguri Vediamo se riesce a batterci Che sfiga non trovare Il sesto Buster Mannaggia Veramente Potrebbe avvenireci Un video su YouTube Con i fiocchi Anche Triple Baron Che sfiga Quando stanno trovando Il Triple Baron Tra l'altro Questi Amagadoni Ci permettono di dare Una chance Anche contro Tipo questo qui Ha pirati no Adesso io non so Se ha Skelly Build Ha pirati APM Questo ha 3 pirati Questo potrebbe avere Skelly Build No perché sta al 4 Ci sono bastati Amagadoni Per battere questo Non c'è stata storia Veramente sta lot Per ora Adesso Tra l'altro Lui ha battuto Scab Quindi Adesso io non mi aspetto Chissà che è da Scab Vabbè E poi li stiamo Letteralmente Annientando 32 danni Una build così Abbiamo sculato di peso Ma Quando esce quella 3-5 Turno 4 Finiscono sempre così Le partite È letteralmente Il pezzo più forte Ora io non so Se ci sta a fare Sto Amul E vendere Foripe Se vogliamo dare Modulo a un Buster C'è addirittura Un altro modulo Però non credo Serve l'altro modulo Cioè potrei attaccare A questo Omega qui Solo per un pochettino Di statistiche in più Però Do uno scudo Muore dopo Però fa più danni Fa 16 danni in più Attaccarlo al primo No perché il primo Muore sempre Ma si è detto Dai chiamalo a questo Dai vediamo cosa succede Piazza lui qua Basta Che bello Così scudati Dai Che bell'è Sta sta build Tanto se a zap Non ce l'ha 98.9% Onesto Ecco Quel modulo Praticamente Ci ha fatto killare Un uovo a gratis Però secondo me Non so Oddio Sì magari ci sta Morto Primo posto Mamma mia Stiamo macinando Questi ultimi giorni Ragazzi eh Stiamo macinando Di brutto Allora Che la partita Con Galakron Sarebbe stata ottima Vista le tribe L'abbiamo detto all'inizio No Non ci sono i token Quindi gli altri Com'è fatica triplare Mentre Galakron Il pezzo se lo prende Solo dall'eropower Questo lo sapevamo Però che Che sarebbe diventato Un massacro di questo tipo Non potevamo Aspettarcelo Magari ok Quando abbiamo visto Il 35 t4 Che dai battle cry Con Accolito Dopo la mummia Allora in quel caso Sì Ce lo potevamo aspettare Spettacolo Sì Grazie a tutti